Anche a questo giro ci sono io a presentare il nostro nuovo acquisto che è Marcello Gazzola proveniente da Lascoli, un giocatore con ottime prospettive future secondo il nostro punto di vista infatti un giocatore che, a parte che c'è un altro filo da torce nella partita d'andata ma poi è un giocatore che si è comunque contraddistinto molto bene in questa prima parte della stagione lui è il terzo nostro acquisto, ne manca ancora uno che speriamo sempre nella buona sorte però saranno uno dei due o Tracosta o Camporesi che sono i due giocatori che a me piacevano tanto e piacciono tuttora, è normale che ci sono delle difficoltà perché le società di appartenenza essendo degli ottimi giocatori stanno giustamente ostacolando questo passaggio e quindi non si sa, se non dovessero loro due arrivare non c'è problema il Sassuolo chiude il suo mercato perché rimaniamo così come siamo adesso sono venuto qua e contentissimo di questo perché ho tanta voglia di riscattarmi dal punto di vista collettivo di squadra conosco la serietà della società che si è contraddistinta in questi anni poi conosco molti giocatori, non personalmente però ci ho giocato contro negli anni passati e so che sono dei giocatori validissimi per cui contento sicuramente bisogna dare atto, insomma io dalla parte mia cercherò di dimostrare di valere questo investimento che ha voluto fare la società verso di me io mi metto a disposizione del mister, saprà lui posizionarmi in campo secondo quello che serve alla squadra il mio ruolo è esterno, tornante, terzino e basta, mi metto a disposizione del mister ho fatto 20 presenze in questa stagione, non mi sono mai fermato per infortuni o cose così per cui sì, sono pronto da quello che ho potuto vedere nell'inizio di questo campionato penso le squadre più che lottano per la promozione oppure per i plof saranno sicuramente il Torino penso la Sampdoria si riprenda da questo momento un po' così e basta insomma, queste secondo me sono le squadre più da temere sarà una partita difficile come del resto lo sono tutti in questo campionato è un campionato molto lungo, dobbiamo pensare partita per partita e trarre il massimo da ogni incontro